E di un morto e tre feriti il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla Statale 87 che collega Larino con Termoli. A perdere la vita Antonio Iacovino, 68enne del centro frentano, viaggiava in direzione di Termoli quando intorno alle 18.30 per cause al vaglio di polizie e carabinieri la sua Lancia Ypsilon avrebbe urtato una Opel Station Wagon che lo precedeva e nell'altro senso di marcia viaggiava un SUV che non è riuscito a schivare la Lancia. L'impatto è stato violentissimo ed Antonio Iacovino è morto quasi sul colpo. Sul SUV di colore rosso viaggiavano quattro persone, marito, moglie e due figli che dopo lo schianto sono terminati in una cunetta a bordo strada. Gli automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l'allarme sul posto insieme alle forze dell'ordine e si sono portati i vigili del fuoco da Termoli, il personale medico del 118 e le ambulanze dei volontari della Croce San Gerardo di Larino e quella dei volontari della Croce Padre Pio di Santa Croce di Magliano insieme al personale dell'ANAS. L'incidente stradale è avvenuto a chilometro 200 più 700 quasi al bivio per Ururi. Nulla si è potuto per salvare la vita ad Antonio Iacovino, al loro arrivo i sanitari ne hanno potuto constatare solamente l'avvenuto decesso. Il leso ma molto provato il conducente della Opel, tra invece i feriti che stavano sul SUV, sono stati medicati sul posto e poi trasferiti all'ospedale Santimotio di Termoli dove gli accertamenti del caso hanno escluso gravi complicazioni. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono adesso al lavoro gli agenti della stradale di Termoli e i carabinieri di Larino. Forse la pioggia battente, l'asfalto vicido, forse un malore oppure una disattenzione. Tutti elementi al vaglio degli inquirenti, non escluso che per andare in fondo alla vicenda possa essere anche disposta l'autopsia sul corpo dello sfortunato 68enne di Larino nelle prossime ore. La notizia si è diffusa subito in paese, lanciando nello sconforto parenti ed amici che proprio in quel momento si preparavano a festeggiare la vigilia del Santo Natale. La strada statale 87 è stata chiusa in entrambe le direzioni fino a tardanotte per permettere le operazioni di soccorso e per sgombrare il manto stradale dai detriti delle tre autovetture.